Mangio Cuoco, Mastro Burattinaio, che sarei io e potrete chi sono, per speciale concessione della direzione, che sono sempre io, e me ne mando, ho servato per voi una grande sorpresa, qualcosa di assolutamente strabiliante. Ci vediamo questa musica. Amén, amén. 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 Vedrete che il lavoro più leggero vi sarà, provate a canticchiare, un semplice motivo sempre allegri vi terrà. Cantando prenderò la scopa e dopo un po', invece di spazzarmi dall'arco, lei mi sembrerà. Io la gioia darò a chi vorrà, se ti vuole di maigria che soffre per amore con me, farirà. Io la gioia darò a chi vorrà, la porzione tutti vogliono da me, urscio d'aiuto e io dico che sono qua. Abbiamo vinto ancora l'oro, su questa parola sola. Grazie! Benissimo, facciamoci sentire con l'applauso e salutiamo il gruppo numero due, Ursula Mangiafuoco, Regina Rossa.